Ben trovati agli amici di Primo Canale, un aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo, situazione per la Liguria nel corso di venerdì, momenti soleggiati ma anche annuvolamenti e qualche piovasco o acquazione più probabile sulla parte di Levante per infiltrazioni di aria umida in quota da ovest, clima ventoso, venti tesi da sud o sud ovest con mare molto mosso a largo. Per quanto riguarda Imperia ritroveremo una giornata che vedrà sole un po' dappertutto, ampie aperture del cielo e clima estivo, venti tesi da sud o sud ovest e mari mossi. Savonese anche qui tra sole qualche annuvolamento ma basso rischio di precipitazioni, una giornata relativamente tranquilla rispetto a quelle precedenti. Provincia di Genova invece con variabilità ma a tratti piovaschi non mancheranno soprattutto sulle aree interne, le aree montuose, meno interessata la costa. Tiguglio che vedrà una maggior stabilità rispetto a giovedì e mercoledì, i venti però sono tesi in rinforzo in giornata da sud o sud ovest con mari molto mossi, perfino agitati a largo. Invece la Spezia, qui l'instabilità non mancherà, nubi regolari alternate a schiarite, sussiste il rischio però di acquazzoni sparsi in giornata con clima ventoso. Durante il fine settimana la situazione rimarrà decisamente più stabile dappertutto, di fatti ci sarà un aumento della pressione da ovest. Sabato ampi spazi di cielo sereno con temperature estive sulle zone di mare fino a 28 gradi, attenzione ancora ai venti vivaci. Nel corso invece di domenica sole è alternato a qualche nuvolamento ma possiamo notare come è basso rischio di temporali anche le temperature fino a quasi 30 gradi sulla costa. I dettagli maggiori li trovate scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.